Siamo al premio Loia, siamo in compagnia dell'avvocato Fabio Civale, dello studio Civale Associati, che ha appena ritirato il premio per lo studio legale dell'anno. Un premio importante, perché pensate di averlo vinto? Questo dovrebbe chiederlo a chi l'ha assegnato, direi che l'impegno da parte di tutto lo studio è stato durante l'anno continuo e soprattutto diciamo che a noi piace dire che per i nostri clienti è un attestato di riconoscimento anche alla fiducia che ci hanno accordato. Grazie mille e complimenti. Grazie a tutti.